Anci deve proseguire il proprio impegno a favore dei comuni in tema di protezione civile. La protezione civile è un elemento essenziale nella vita delle comunità e deve essere da parte di Anci portata avanti con particolare riguardo. Proprio anche alla luce dei recenti sviluppi legislativi con il nuovo decreto legislativo in merito alla riforma della protezione civile, Anci dovrà supportare le amministrazioni locali affinché possano fare questo nuovo salto di qualità in termini di applicazione di queste norme a favore della difesa dei cittadini. In questi anni i sindaci hanno agito sempre nell'interesse delle proprie comunità, molto spesso con norme che li hanno visti però messi sotto accusa nel momento in cui si sono create delle difficoltà. Questo non deve accadere perché ogni sindaco lavora davvero a favore della propria comunità e non può essere il capo espiatorio di ogni situazione. I sindaci poi in tema anche di un altro tema importantissimo per le nostre comunità è la sicurezza, sicurezza urbana che ha visto anche in questo caso un'evoluzione normativa molto importante e le amministrazioni locali con il supporto di Anci devono essere messe in grado di offrire ai propri cittadini tutte le risposte necessarie in tema di tranquillità, vivibilità, decoro e sicurezza urbana.